E' stata una mattinata di Pasqua infelice per la parrocchia di San Giuseppe a Saronno. Infatti la casa parrocchiale ha subito una rapina proprio la notte precedente. Finestra e porta blindata forzate e cassaforte di velta. I dettagli nel servizio. E' stata una Pasqua senza pace per la parrocchia saronnese di San Giuseppe. Ad annunciarlo Don Paolo Fumagalli durante la funzione religiosa del mattino alle 8 e 30. Nella notte fra sabato e domenica due malintenzionati si sono intrufolati nella casa parrocchiale rubando il contenuto della cassaforte. Prima hanno provato a entrare scardinando la porta blindata. Non riuscendoci hanno quindi forzato una finestra. Poi con l'aiuto di un flessibile hanno divelto la cassaforte. Una refurtiva di poca entità ha chiarito Don Paolo non essendo ancora contenute nella cassa le offerte pasquali. Il danno economico maggiore è stato quello della porta blindata disarcionata e ora fuori asse. A dare l'allarme è stata una suora, allertata da uno strano odore. Seguendo la scia è giunta fino in segreteria. L'odore era quello lasciato dalla smerigliatrice con cui era stata aperta la cassaforte. Danni anche per la porta che conduce al salone e alla sala dove sono conservati gli ulivi della domenica delle palme. I carabinieri erano già sul posto nella mattinata di domenica per un sopralluogo. Ora si attende solo l'effettivo valore della somma portata via dai malviventi ancora da identificare. Grazie. 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 Grazie.